Buonasera a tutti, siamo qua. Dopo che abbiamo approfondito vedere sulla sicurezza del lavoro oggi, abbiamo un semplice esempio di incidenti sul lavoro. Proprio voi c'è un ragazzo che ha avuto un grande incidente sul lavoro, che ci vuole raccontare la sua storia. Facciamo entrare sul palco. Mancini Stefano, ti direi un applauso. C'è un ragazzo che questa ragazza ha perso in un'altra. Allora, prego, ci racconti la sua storia, per favore? Io praticamente lavoravo in un'azienda a metà meccanica. Come tutte le mattine, mi sono recato in un'azienda. Lavoravo al cronio. Non ero buonissima usata di lavoro, tanto lavoravamo su pezzi meccanici. Ma qualcosa non è distorta. La mia madre si è incagliata dentro. L'ho dovuto imputare. Non c'è parte, insomma. No, guarda, allora, smettiamo qua, ci vediamo tutto. Grazie. Grazie. Grazie.